Epson ha progettato una gamma di videoproiettori a tiro ultracorto. Questa gamma è composta da 5 modelli, un modello con risoluzione XGA in formato 4 terzi, due modelli con risoluzione Wide XGA in formato 16 decimi e due videoproiettori con funzionalità interattive di cui parleremo più avanti. I vantaggi di questa gamma sono, il primo è quello del tiro ultracorto, il secondo è quello della mancanza di ombre sulla superficie proiettata e il terzo è quello di mancanza di abbagliamento. Il quarto è la sicurezza, il videoproiettore viene fornito con una staffa a corredo che permette un'installazione a parete in totale sicurezza per chi lo utilizza. Quali sono gli ambiti di applicazione di questi videoproiettori? Ne abbiamo sia in ambiente education che in ambiente business.